Una buona notizia per il porto di Civitavecchia e stavolta per quanto riguarda le cosiddette rinfuse liquide. Le infrastrutture logistiche delle società Sodeco e Petroli Investimenti, parte del gruppo Ludoil, che da qualche anno opera Civitavecchia nel grande deposito di via Aurelia Nord, subito dopo il cimitero, hanno permesso lo scarico di una nave cisterna che trasportava un lotto di oltre 3.500 tonnellate di combustibile SAF prodotto dalla raffineria Eni di Taranto. L'importanza dell'operazione è rappresentata dal fatto che si tratta della fornitura di carburanti e combustibili di nuova generazione che andranno a servire l'hub dell'aeroporto di Fiumicino. In una nota diramata da Ludoil Sodeco e Petroli Investimenti si legge che le tre società sono state parte attiva e strategica di un progetto integrato con Eni Aeroporti di Roma e Ita Airways. Nella stessa nota Ludoil spiega che la fornitura rappresenta un passo in avanti anche in termini di volumi di traffico per il porto di Civitavecchia in un'ottica di transizione energetica. Nel dettaglio le operazioni si sono svolte perso la Torre Petrolifera, operativa da oltre 20 anni nell'area di mare antistante la centrale di Torre Valdaliga Nord. Come detto la notizia riveste una particolare importanza in funzione di un auspicato incremento dei traffici commerciali da anni in lento declino nello scalo marittimo locale. Il nuovo combustibile riservato agli aerei è attualmente prodotto nelle raffinerie di Taranto. La quota bio presente nelle circa 3.000 tonnellate che sono state dirottate all'aeroporto di Fiumicino consente un risparmio di anidride carbonica superiore a 50 tonnellate rispetto a un equivalente carico di prodotto di origine fossile. Entro l'anno sarà disponibile anche l'ENI BioJet prodotto tramite distillazioni di biocomponenti provenienti dalle bioraffinerie ENI utilizzando esclusivamente materie prime di scarto come gli oli minerali esausti e i grassi animali. ENI BioJet conterà il 100% di componente biogenica e potrà essere utilizzato in miscela con il jet convenzionale fino al 50%. Infine dal 2024 a Gela verrà avviata la produzione di ulteriori 150.000 tonnellate anno di ENI BioJet in grado di soddisfare il potenziale obbligo di miscelazione del mercato italiano per il 2025.